Io non vado all'Expo perché non ho alcuna intenzione di incoraggiare la fiera degli scandali, dove per l'ennesima volta hanno illuso i giovani italiani promettendo circa 70.000 posti di lavoro, che poi si sono ridotti in realtà a 4.000, per giunta a quasi tutti precari o comunque temporanei. Con l'avvallo anche dei sindacati che hanno incoraggiato i giovani a lavorare gratis all'Expo. Per creare invece quelle opportunità di lavoro che tutti i giovani e non solo i giovani italiani stanno cercando, occorre finanziare quei settori ad alta intensità di lavoro, come ad esempio il riefficientamento energetico degli edifici, o le bonifiche, o l'agricoltura biologica. Ringrazio Beppe Brescia per avermi nominata e nomino a mia volta Sabino Mangano, portavoce comunale al Comune di Bari per il Movimento 5 Stelle, Orazio Colonna, portavoce comunale per il Comune di Noci e Valerio Morelli, portavoce comunale al Comune di Lizzano, in provincia di Taranto. Grazie per la visione!